Oltre 60 libri animati stampati a Torino e in Piemonte tra la fine dell'Ottocento e gli anni Sessanta del Novecento e la mostra Pop-up Piemonte inaugurata mercoledì 23 ottobre alla biblioteca della regione Piemonte Umberto Eco. Volumi scientifici e per bambini, tecnici e religiosi che permettono al lettore di interagire ponendosi a metà tra il libro e il gioco. Quella dei libri pop-up è una storia antica che affonda le sue radici nel Medioevo e arriva fino ai giorni nostri. Dopo la metà del Novecento, in particolare a partire dagli anni Settanta e poi fino ai nostri giorni, il libro animato vede un boom in tutto il mondo, sia dal punto di vista del libro animato per l'infanzia, quindi ludico, sia anche dal punto di vista divulgativo, fino ad affacciarsi al mondo del libro d'arte. E in particolare è interessante anche valutare i rapporti che ci sono tra il libro animato e le nuove tecnologie, perché in fondo il libro animato è per sua natura un libro interattivo, per cui i libri animati sono anche un antecedente molto significativo degli attuali prodotti multimediali, per esempio le app. È stato proprio il Piemonte a introdurre per la prima volta in Italia libri pop-up, permettendo così di valorizzare la storia editoriale piemontese anche a livello internazionale. È un punto sicuramente d'orgoglio avere una mostra in Consiglio regionale di questa natura, perché i pop-up indubbiamente sono all'avanguardia, anche se hanno una storia centenaria all'avanguardia, perché è una caratteristica scientifica specifica degli libri stessi, ma ha particolarità tecniche, se si pensa che sono totalmente fatti in carta. Abbiamo diversi libri di varie nature, quelle per i tecnici scientifici, ma anche quelle per i bambini. Ovviamente nascono come libri per bambini, ma poi vengono tramutati nel tempo anche libri per gli adulti. La mostra, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte insieme alla Fondazione Tancredi di Barolo Musli, Museo della Scuola del Libro per l'Infanzia, sarà aperta al pubblico fino al 29 novembre.